Debutta il 9 dicembre al Teatro Lauro Rossi l'Orchestra di Fiati di Macerata. Il concerto di Natale andrà in scena a partire dalle ore 21 e si svolgerà con il patrocinio del Comune. L'Orchestra di Fiati di Macerata che proponiamo è un'orchestra formata da 45-50 elementi, tutti della zona del Maceratese, poco più lontano, qualcuno anche dell'Ascolano. Ci siamo messi insieme per creare questo concerto, quindi diciamo che è una cosa bellissima. Il Comune ha deciso di darci una mano e noi oggi li ringraziamo nel nome del Sindaco Romano Carangini e di tutta l'amministrazione che ci ha dato la possibilità di esibirsi a Lauro Rossi. Per noi in pratica è un sogno, in due mesi, riuscire a fare il primo concerto. Il primo concerto, il debutto, sarà lunedì 9 dicembre, quindi vi aspettiamo numerosi a Lauro Rossi. Vi divertirete, passerete una serata diversa dalle altre e molto bella in musica. L'associazione nasce da un'idea di un gruppo di soci promotori che hanno la passione della musica dentro. La passione della musica è stata presente nella vita di tutti noi, sotto vari aspetti, sotto varie direzioni. Ma però ci ha guidato, ci ha uniti in un intento comune, quello di dare al territorio, appunto maceratese, qui nel capoluogo, la città di Macerata, un'orchestra. L'esordio lunedì 9 dicembre al Teatro Lauro Rossi, un esordio importante, un esordio così, importante per una realtà che ha delle prospettive e dei propositi molti rusinghieri lungimiranti. Quindi speriamo che ci sia una forte partecipazione, una calorosa partecipazione che ci dia appunto conferma e forza per i risultati e gli obiettivi che ci siamo proposti. L'orchestra è diretta dal maestro Andrea Mennichelli. 13 brani musicali proposti con momenti di particolare intensità. 45 elementi molto validi, molti dei quali professionisti, altri appassionati, ma tutti con grande professionalità, grande serietà e grande spirito di collaborazione. Tutti presi da questo progetto che sta nascendo, che è appena nato. E quindi anche noi siamo desiderosi di proporre quello che poi il pubblico si aspetta. Lunedì sera ci esibiremo al Teatro Lauro Rossi con un programma ampio che spazierà dalla musica da film, brani natalizi in concomitanza appunto con l'arrivo del periodo di Natale e musiche apprese anche dal repertorio jazz, piuttosto varie, un programma molto vario. Insomma credo che possa essere di gradimento a chi verrà a vederci e ad ascoltarci. L'ingresso è gratuito, anche se sarà necessario ritirare i tagliandi presso la biglietteria di Piazza Mazzini fino alle ore 20 del 9 dicembre.